Ciao a tutti e bentrovati a 101 secondi Viola di oggi. C'è un'accelerata nel difensore perché la Fiorentina, Pantaleo Corvino, Paolo Soda ma soprattutto la società si sono resi conto che in difesa c'è qualcosa che non va, in difesa c'è bisogno di rinforzare subito il reparto. Ieri, anche se era un giorno normale, c'è stata una riunione telefonica, c'è stato un contatto tra Cognini, Corvino e i dirigenti della Fiorentina e è stato chiesto al direttore generale Viola di accelerare i tempi, di arrivare al difensore e di chiudere due delle 5-6 trattative che il direttore generale Viola sta tenendo in piedi ormai da molto tempo. Ci sarà probabilmente anche un anticipo leggero di cassa perché non si parla di operazioni da grandissime spese ma sicuramente Corvino proverà a chiudere nelle prossime 36 ore un acquisto importante di un giocatore probabilmente straniero, questo è quello che sappiamo e poi ci sarà un rincalzo, ci sarà un'alternativa, ci sarà un uomo da rosa che potrebbe essere invece italiano. Saranno decisive le prossime 36 ore, Paolo Sosa potrà così avere a disposizione un rinforzo che anche numericamente fa molto comodo vista la situazione nel reparto arretrato Viola che continua ad essere molto difficile, molto delicata, era il reparto dove occorreva muoversi con maggiore velocità, dove occorrevano maggiori rinforzi. Invece la Ferentina si ritrova ancora oggi al 2 di agosto in una situazione sicuramente delicata, non bella e pericolosa in vista di un futuro che dovrà ripartire anche dal settore difensivo della squadra. A domani con i 101 secondi Viola, un saluto da Marco Dell'Olio.